Se mi sono dimenticato qualcuno la colpa è mia, mi assumo la responsabilità, ma sinceramente ci sto lavorando da un paio di giorni. Non è stato facile anche perché ci sono delle situazioni di Nzola che comunque avevamo detto che non avrebbe accettato la convocazione con l'Angola. Kamada, notizia di ieri, non è stata convocata dal Giappone quindi sarà sicuramente a disposizione. Questa comunque è una buona notizia, non è che sta facendo benissimo Kamada, però almeno ce l'hai a disposizione. Cioè addirittura non convocato. Non convocato al Giappone. Clamoroso eh. Ricordiamoci il discorso Kamada, Luiz Alberti e Stivo. No ma lì è più una questione tattica che non aveva senso di essere posta. Allora ricordiamo un po' quali sono i convocati in eretto, quelli ufficiali perché non ci sono ancora ufficialità. L'Atalanta perde Lukman e il Touré c'è questa situazione dove in teoria l'Atalanta aveva avuto la garanzia di non convocazione ma invece è stato convocato. Quindi qui c'è un po' di situazione particolare. Cagliari perde il Zito Lovumbo che giocherà stasera in Coppa Italia, l'ultima partita prima della Coppa d'Africa. Gana non è ancora reso l'ufficialità, come non ci sarà perché è stato convocato dalla Costa d'Avorio. Il Lecce ne perde tre, Raffia, Vandà e Tuba. Quindi tre giocatori che perdi il Lecce. Il Milan perde Bernaseri, Ciopoese. Bisogna capire ancora Macchin del Monza. Mentre nel Napoli mancheranno Franca Chissà e ovviamente Vittor Rosimène. Nella Roma indica, e qui c'è la problematica legata alla difesa della Roma, ma stessa cosa a Warker, il fotocalcio non cambia praticamente niente. Sul discorso Selleritani invece, Giovane Cabral non c'è, la sarà Colibali e Diacqui è convocato ma è infortunato. Quindi comunque non ci sarà. E per quanto riguarda bisogna capire ancora Radio Bianca, il resto non ci sono più convocazioni. Quindi parliamo comunque di una situazione dove forse anche meno peggio del previsto. Sì, diciamo che le squadre più vessate dalla Coppa d'Africa sono Napoli e Milan, perché al di là della questione numerica perdono pezzi importanti. Anche il Cagliari con lo Vumbo perde parecchio. Sì, va bene, è la nostra dimensione sicuramente. Anche la Selleritana comunque perde tre giocatori. Diciamo che è il D.A. di quest'anno, ecco, se ritorniamo al discorso di prima dei flop, di A ce lo possiamo aggiungere tranquillamente, ma di negaflop. Certo, visti anche l'accessione ovviamente. Negaflop proprio di A. Grazie.